8, 9 e 10 agosto, Farindola, settima edizione di Pecorino e Pecorini, il dopocena per eccellenza dell'Abruzzo, un percorso enogastronomico che si tiene lungo il centro storico del paese, dove i produttori di formaggio pecorino di Farindola e di vino vitigno pecorino daranno la possibilità di degustare questo abbinamento, questo matrimonio fra il formaggio e il vino pecorino. L'evento si struttura su quattro piazze, dove è possibile trovare questi prodotti, non soltanto formaggio e vino, ma anche altri prodotti di qualità dell'entroterra abruzzese, tipo miele, cioccolato artigianale, dolci, tartufo e prodotti biologici. Quattro piazze, ogni piazza quindi più produttori, 20 cantine di pecorino, quattro concerti, quindi un concerto per ogni piazza e tutto quanto caratterizzato da una cornice eccezionale che è quella del centro storico del borgo farindolese. Io sono un cioccolatiere artigiano alimentarista e questo esperimento è stata un'evoluzione di tutte le prove fatte in precedenza di cioccolatini con il pecorino fino ad arrivare a un ragionamento di affinamento del formaggio con il cacao che è stato un successo inaspettato in quanto un metodo di conservazione del formaggio in questa maniera, con questi risultati, non era mai stata tentata. Quindi ci siamo trovati con questa piccola quantità da essere costretti poi a non poterla far assaggiare per ovvie ragioni di piccole quantità e quindi di conseguenza rimetterla all'interesse del pubblico attraverso un'asta su ebay al negozio Pecorine e Pecorini a Bruzzo Food.